Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'etangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Ah, credo non è facile dire, ma è ala. Ah, aspettate, ripete di nuovo? Ala. Ala? Si, si, è bene. Ok, ok. Ok, ho una pelle? Ok, ok. Ok, ok. Sin Bone. Floo, se if i can esse, ok. Ok. ok, non c'è problema mi asec might be dead actually not even kidding i have no ammo oh my god i have no ammo alright, let's see there's people south yeah there's an attack here for you i am attacking you ok i one shot him nice oh there's a guy oh there's a guy watch out, watch out yeah one is here one shot one shot dead oh shit 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 yeah, probably is the zombies now we can kill you i'll get you, don't worry ok, i got him i'm gonna get you now use ambush to hunt i think yeah, that's all look at this guy try harding like hell c'mon buddy oh you bring me a combat i love this guy so fucking much right now all right time to shine so all right so 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 okay this guy has a slurp i need to get a i don't know how but i have to nice try buddy okay this guy is getting high ground i don't really care oh he's white yeah okay so let's see i can do this never mind i can do this i can do this i can do this huh take this huh ggd yeah it's gone this guy is just gone where is he hello my dude come on buddy let's go gg 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 man go to the biz alright see you next time man yeah